Gustate e vedete, la bontà passa per i sensi, cinque passi per accendere il pensiero, per accendere potremmo dire non solo la riflessione ma anche i sensi. Partiamo dall'accostamento abbastanza distonico. La prima immagine che avevo collocato su questa slide era una foto dei navigli, siamo a Milano, in queste sere pieni di giovani che si recano per il rito dell'aperitivo. Tutti sentiamo i telegiornali che ci richiamano continuamente, ci dicono che non è il caso, è pericoloso, eppure perché così tanti giovani, anche così tanti adulti, in tutte le grandi città italiane sfidano la logica, sfidano la paura del contagio per vivere un aperitivo così importante. Un aperitivo che, il termine voluto, più che un aperitivo diventa un rito, è qualcosa effettivamente che permette di vivere qualcosa di diverso, di dare sapore alla vita. In effetti il senso del gusto è un senso, direbbe un antropologo che l'ha studiato parecchio come Claude Lévi-Strauss, è un sensore di pienezza più che un senso. Nel suo saggio fondamentale, un saggio di antropologia strutturale intitolato dal crudo al cotto, pensate già come il titolo evocativo, spiega che effettivamente il senso del gusto può essere utilizzato come la traccia, il termometro che mi permette di vedere l'evoluzione, la maturazione delle relazioni, perché siamo passati dal nutrirci come le altre creature, come gli animali, mangiando carne cruda, sbranandola, abbiamo inventato la raffinatezza della cucina francese, siamo in Italia, della cucina italiana. È solo questione di intelligenza o in realtà ci sta molto di più? Attraverso questa maturazione del gusto abbiamo voluto dire molto di più della nostra identità e anche della ricerca, del senso della vita. Mi preme qua raccontarvi un episodio che ho vissuto durante il primo lockdown, sono stato cercato dalla vicesindaco di Milano che mi chiedeva se potevo aiutarla a cercare una cucina da metterle a disposizione perché un gruppo di una scuola professionale di una periferia della città a casa appunto per il lockdown non riusciva a stare a casa e si è proposto di cucinare gratis per tutti i medici che facevano i turni e spesso non finivano se non a notte inoltrata negli ospedali. Effettivamente siamo riusciti, abbiamo trovato una cucina e questi 30 ragazzi si sono alternati rispettando tutte le norme e usavano un'ambulanza per portare alle otto di sera questo cibo preparato per i medici che arrivavano davvero affaticati. Pensate che cosa è diventato il cibo in quel caso, il gusto, come veicolo effettivamente di salvezza, veicolo di fiducia. Se questo è il tema allora iniziamo a capire il senso dell'immagine che è la figura del buon samaritano di Vincent van Gogh. Se il gusto è un sensore di pienezza, nel momento in cui si vive il contrario della pienezza, come la pandemia, cioè la mancanza, la morte, come misurare effettivamente la capacità di maturazione delle relazioni in un modo analogo come il gusto ha fatto? La domanda mi è venuta perché subito passiamo alla seconda slide. Ho accostato effettivamente agli aperitivi dei navigli una metafora di Papa Francesco che insieme leggiamo, una metafora che ha detto pochi mesi dopo la sua elezione come successore di Pietro. Io vedo con chiarezza, dice Papa Francesco, che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaddare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesteloro e gli zuccheri alti. Si devono curare le sue ferite, poi potremmo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite e bisogna cominciare dal basso. È interessantissimo il modo con cui il Papa costruisce e organizza la metafora dell'ospedale da campo. Il contesto è la battaglia, il punto di partenza è quello che dicevamo prima, la mancanza. Come già stato detto tante volte in questo pomeriggio, la pandemia ci ha ricordato che avevamo costruito un sistema culturale, non solo sociale, in cui ci eravamo permessi di dimenticarci il limite, la nostra fragilità. E il Papa dice purtroppo capita, è la condizione normale, è la condizione quotidiana di sbattere contro il limite, è la battaglia che tutti combattiamo. Bene, chi? Come dare senso? Come accendere quei sensori di pienezza di cui parlava prima Claude Lévi-Strauss? Il Papa è molto attento e avete visto che, ad esempio, contrappone, in un modo voluto anche, abbastanza retorico, è inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti. Serve la tecnica sicuramente, ma rischia di essere troppo raffinata. Il bisogno è un altro. Come dice il Papa, bisogna curare le sue ferite, nel senso riconoscerlo, capire la sua integralità, la sua identità, e poi potremo passare agli aspetti tecnici. E quindi capiamo il senso della parabola del buon samaritano che illustra tutta la mia relazione e che il Papa Francesco ha ben presente nel suo magistero. Abbiamo sentito prima richiamare la Samaritanus Bonus, abbiamo tutti in mente la Fratelli Tutti e il suo capitolo secondo che la commenta. Che cosa vuol dire in effetti affrontare il tema del gustare la vita avendo in mente la parabola del buon samaritano? E allora passiamo al secondo passo. Il secondo passo, come vedete, è una foto, una delle decine di migliaia che potrete trovare in rete, di un malato di Covid che viene assistito. Tutti abbiamo vissuto, tutti abbiamo provato questa angoscia. Parliamo da una città che davvero ha vissuto il primo lockdown in un modo molto forte, molto ferito, ha accompagnato molto la vicina città di Bergamo. Che cosa ci ha colpito? Che cosa effettivamente ci ha ferito? Anche delle testimonianze dei medici che ci hanno cercato, anche per capire come essere accanto alle ferite, come essere buoni samaritani, come ci ricordava prima Papa Francesco. Ci ha colpito che tutti ci siamo impegnati ad affrontare la pandemia, ma il primo strumento che abbiamo acceso, e qui ci serve un altro antropologo abbastanza originale, anche lui strutturalista famoso, che è Michel Foucault, abbiamo combattuto quel nemico accettando la sua logica, cioè isolandoci, chiudendoci. Come vi dico, effettivamente il male capace di metafore sempre muove, ma la loro logica è antica quanto il mondo. La logica che effettivamente muove il male è quella di separare, di disunire, di allontanare, che è stata una logica fondamentale nei primi giorni. Però ci siamo accorti, ce ne accorgiamo tutti anche in queste settimane in cui tutti facciamo fatica a vivere le ultime fasi del contingentamento, se volete, ecco, del lockdown, anche se ormai molto ridotto. Tutti ci accorgiamo che questo modo di vita non è una vita. Se vale il termometro che abbiamo acceso con Claude Levi-Strauss, il sensore di pienezza ci dice che c'è molto vuoto. Ha ragione Papa Francesco da questo punto di vista. Dove sono quegli ospedali da campo? Tornate alla sua immagine, dopo una battaglia, l'ospedale da campo, in quel caso, innanzitutto, è un luogo di comunità, è un luogo che serve per incontrarci, per scaldare, di fronte al freddo dell'isolamento, della paura e della guerra. Dove sono questi luoghi? Come costruirli? E così arriviamo a approfondire questo passo. Perché in effetti ci accorgiamo che c'è bisogno di imparare a gustare la vita anche nel tempo di mancanza, nel tempo appunto del dolore, della malattia, del disagio? Perché la pandemia ha messo in luce ancora in un modo più forte che siamo di fronte ad un paradosso e a un puradosso molto potente. Abbiamo affinato molti strumenti, pensate la capacità della tecnica. Dopo pochi mesi ci ha dato un vaccino e se oggi iniziamo anche lentamente a ritrovarci e tutti speriamo di poterlo fare meglio nelle prossime settimane lo dobbiamo alla tecnica. Però allo stesso tempo siamo tutti qua a dire che quella tecnica alla fine non ci basta per dirci che siamo salvati, ci manca ancora qualcosa. C'è bisogno di tornare a riconoscerci come persone, c'è bisogno di qualcuno che ci dica che ci possiamo riconoscere come persone e sentirci popolo. Uno degli elementi interessanti dell'analisi che Claude Lévi-Strauss fa sulla evoluzione del gusto è la nascita ad esempio del pasto collettivo. Il pasto collettivo dice molte cose, il pasto collettivo analizza i grandi pranzi del Re Sole e lui, visto che aveva fatto anche un passaggio nella cultura e nelle università francesi, erano davvero un rito che diceva pienezza e li contrapponeva invece alle mense aziendali. Anche quelli sono pasti collettivi eppure come sensori di pienezza dicono davvero molto poco. Gustare la vita vuol dire intuire quali sono gli elementi che ci permettono anche in situazioni di mancanza, di poterci sentire aggregati e riconosciuti da tanti elementi che ci rimandano la capacità che l'altro ha di riconoscermi e di dire che per lui io conto, che valgo qualcosa. E così arriviamo a comprendere, se volete, qual è la ragione del disagio, che ve la spiego brevemente. La pandemia ha messo in luce un elemento che le nostre società occidentali stanno vivendo ormai da qualche decennio, che però ci deve molto interrogare come cristiani, è che proprio per favorire una cura sempre più attenta al sintomo e alla malattia che uno si trova a vivere, abbiamo separato la malattia dal malato. E non ci siamo accorti che l'elemento fondamentale di cui abbiamo bisogno nel momento in cui si prova la mancanza, si prova la debolezza, si prova il dolore, è proprio quello della relazione di fiducia. Un pensatore che è all'origine della nostra cultura come Aristotele dice che effettivamente nel suo saggio sulla politica che sono tre i legami di fiducia che strutturano un insieme sociale, il legame di fiducia con il governante, con il precettore e con il medico. Siamo agli origini, allora non si sarebbe neanche immaginato, non si poteva neanche immaginare i progressi che la scienza medica avrebbe fatto, eppure si intuisce che ciò che conta è questo legame. Che cosa ne è stato di questo legame di fiducia tra il medico e il suo paziente? Se andiamo a vedere, come vi metto nella brano in fronto, la legge 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, la legge sulle dati, così è chiamata, ci accorgiamo che l'articolo 4 introduce una nuova figura, la figura del fiduciario, di colui che viene nominato dal paziente perché possa effettivamente portare avanti e difendere le intenzioni del paziente nel caso il paziente non ne fosse capace, ma il legame di fiducia non doveva essere tra il medico e il paziente, perché c'è bisogno di una terza figura del fiduciario? Questo è il paradosso, gustare la vita, gustate e vedete, in realtà viviamo un'accelerazione nella capacità di esibire alcuni ingredienti che ci permettono di vivere bene, quindi la qualità della cura, ma allo stesso tempo ci accorgiamo che l'approfondimento della capacità tecnica di soluzione dei problemi di questi ingredienti ci fa perdere la qualità del legame che c'è tra le persone del legame di cura. Che cosa si può fare? Soprattutto qual è lo spazio per il cristianesimo, per noi che pensieri si possono accendere? Ve lo accendo con due racconti, un segreto spiegato in due racconti. Il primo è un episodio della vita di Madre Teresa. Al giornalista che la intervistava, madre, quale motivazioni hanno le sue sorelle per fare tutto quello che fanno? Madre Teresa di Calcutta rispose, esse amano Gesù e trasformano trasformano in azioni viventi quell'amore. Servire i più poveri dei poveri non è la nostra vocazione, la nostra vocazione è appartenere a Cristo. Ma degli uomini come me, a questi ammalati, dice l'intervistatore, qual è la cosa più bella che voi date? La gioia di essere amati. Ah, per loro non è ricevere qualcosa da mangiare o l'essere puliti? No, non è questione di ricevere. Ho raccolto una volta un uomo da una fugna aperta e l'ho condotto alla casa dei morenti ed egli disse, ho vissuto come un animale nella strada e ora sto per morire come un angelo, amato e assistito. Dopo tre ore morì. Poche settimane dopo abbiamo raccolto un altro uomo dalla strada e l'abbiamo lavato e pulito. Quindi egli si rivolse a una sorella e disse, sorella, sto per andare a casa, da Dio, questo è bello. E morì. Questo è amore in azione. Gustate e vedete, la bontà passa per i sensi. Penso che il racconto non abbia bisogno di spiegazioni talmente evidenti, quanto è pieno di gusto per la vita nonostante si tocchi il limite, si tocchi la morte. Tutti intuiamo che cosa intendeva Papa Francesco con un ospedale da campo, ascoltando un simile racconto. Il secondo racconto lo prendiamo dalla vita di Gesù stesso ed è legato alla parabola del buon samaritano. Lo prendiamo infatti dall'Evangelista Luca qualche capitolo prima al capitolo settimo e in un contesto in cui Gesù predica, passa per le città, vive qualche tensione anche nell'annuncio e soprattutto parla di sapienza. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui e gli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a banargli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca, una peccatrice. Gesù allora gli disse, Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose, di pure maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, suppongo colui al quale ha condonato di più, gli disse Gesù. Hai giudicato bene? E volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparsi i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato, invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Tre elementi da notare che sono molto interessanti. Partiamo dall'osservazione di Claude Lévi-Strauss, il sensore di pienezza. Il sensore di pienezza è interessante. Gesù in questo caso fa da, potremmo dire, ermeneuta, interprete, c'è che ce lo fa vedere, il sensore di pienezza è interessantissimo, ce l'ha la donna che non è invitata a tavola. Gesù partecipa a un banchetto, secondo la logica che abbiamo detto prima, quella tavola dovrebbe accendere tanti sensori di pienezza, eppure è la metafora del freddo, non passa una relazione, anzi è un campo di battaglia quella tavola. La donna che non è a tavola porta a lei il sensore di pienezza. Il gusto non passa attraverso il cibo in questo caso, ma passa attraverso un altro legame, perché la donna ha saputo accendere la dimensione simbolica del cibo che quella tavola non accendeva. Il secondo elemento che è interessante, c'è una reciprocità se vale questa lettura assunta dalla prospettiva di Claude Lévi-Strauss. Siamo prima, vi dicevo, della parabola del buon samaritano. Gesù fa da buon samaritano alla donna perché le riconosce, la sua opera di salvezza la salva, ma anche la donna fa da buon samaritano Gesù. C'è una reciprocità che è molto significativa, che è molto produttiva. E il terzo elemento che è molto interessante, e vale ancora la logica di, l'analisi di Claude Lévi-Strauss, è la capacità dei sensi. Simone ha tutti gli elementi per fare i passi che fa la donna. Alla parabola, alla domanda di Gesù risponde bene, risponde giusto. Perché non riesce ad applicarla nella vita? Perché non accende i sensi, cosa che invece la donna fa. E così arriviamo al quarto passo che vi dicevo. In questo caso, vedete l'immagine scelta, è un affresco del Beato Angelico, l'episodio famoso del Noli Metangere, che è interessantissimo. In questo caso è Gesù che nega i sensi. A Maria che lo vuole toccare, Gesù dice, ferma, mantieni le distanze. L'interpretazione teologica la sappiamo, però è interessante perché accende questo quadro, ci permette di capire su che cosa dovremmo riflettere in questi tre giorni, su come effettivamente il sensore di pienezza per noi non è nient'altro che un codice sacramentale, che una pedagogia sacramentale. L'immagine dell'ospedale da campo che dà gusto alla vita non è nient'altro che la capacità che abbiamo di vivere in pienezza i sacramenti a partire da quello dell'Eucaristia. Vi metto lì quattro elementi fondamentali che ci permettono di leggere sia la metafora dell'ospedale da campo che appunto un sacramento come quello dell'Eucaristia. Il primo movimento che è fondamentale è quello di immersione, di assunzione dell'umano. Non posso come Simone stare fuori, spegnere i sensi, non gusterò mai nulla. Ho bisogno effettivamente, questo vuol dire tanto, vuol dire ad esempio nella pandemia che abbiamo vissuto condividere la paura, il senso di impotenza, la rabbia, la domanda anche, la frustrazione su noi stessi, su quale sarà il nostro destino. Il secondo elemento è avere la capacità in questo contesto dove effettivamente le emozioni correranno il rischio di spegnere tutto, per talmente ci dominano la mente e i sensi, di avere spazio per ascoltare una parola che apre e libera, non li metangere. Oppure Gesù che parla alla donna, Gesù che parla a Simone. Il compito che abbiamo è, in una relazione di solidarietà costruita molto forte, essere capaci di ascoltare una parola che libera noi e per questo libera gli altri, pur magari lasciandoci nella situazione in cui eravamo. Il terzo elemento fondamentale è la comunione che smaspera il peccato come forma di semplificazione mortifera dell'attraversamento dell'esperienza. Se Claude Lévi-Strauss avesse dovuto dare una lettura sintetica dell'episodio che abbiamo appena letto di Luca VII avrebbe detto così. Qual è il problema di Simone? È che non partecipa all'esperienza, che usa la sua ragione per spegnere, per cui vede con lucidità, capisce che quella donna è una peccatrice, però proprio perché non attraversa l'esperienza con lei, non è capace di vedere dove quella sua intuizione può portare, per cui produce morte, produce distanza. Lui e quella donna rimangono estranei l'una all'altra, non gustano nulla. La donna rimane nel suo peccato, lui rimane nel suo orgoglio. Invece questa capacità di riconoscere che c'è una comunione che ci permette di superare questi elementi. E l'ultimo elemento, che è quello che abbiamo visto in Luca VII, che anche Gesù opera con Maria, è intuire la capacità di guarigione che è proprio insita nel legame sacramentale. Non a caso, spesso dai padri della Chiesa, chiamato medicina salutis, in particolare il sacramento appunto della riconciliazione. Questa capacità di vedere che noi non comprendiamo il senso, ma se lasciamo che quello che viviamo diventi man mano un luogo che viene riletto dall'esperienza di Cristo e quindi a partire ad esempio dal prototipo della sua sofferenza, possiamo scoprire cose identite. Gustare la vita, un sensore di pienezza in un momento di mancanza come è la pandemia e l'accostamento alla morte che la pandemia ci ha fatto vivere, è proprio anche questo, avere il coraggio di dire che effettivamente abbiamo un amore che attraversa la morte, non che ce la impedisce, perché abbiamo visto si muore in tanti, ma che la attraversa. La sfida che abbiamo come cristiani è per educare, predicare la ressurrezione in questo contesto di morte, che tra l'altro è anche il tempo liturgico che stiamo vivendo. E così arriviamo al quinto e l'ultimo passo. Qual è il cuore della questione? Vi metto due testi, uno in inglese e uno in francese, di un autore che va per la maggiore in questi anni, Guy Jobin, che ha studiato moltissimo il tema della relazione e della relazione vissuta da cristiani nei luoghi di cura e ha lavorato tantissimo sulla riedizione, la ricostruzione del concetto di spiritualità. Che cosa possiamo fare noi cristiani in un contesto in cui potremmo dire il cambiamento culturale, il meticciato culturale in atto, ad esempio, fa sì che ci sia un pluralismo religioso che non rende più evidente neanche il patrimonio di simboli, di valori, di sacramenti che abbiamo. Come aiutare la gente a capire che però magari non sei neanche cristiano, non condividi la mia fede, ma possiamo trovarci in comunione in questo momento, possiamo crescere insieme. Lavorando sul concetto di spiritualità scopri un'idea che ha attraversato anche alcuni teologi del Novecento. Il momento della mancanza, il momento appunto della sofferenza, pensate alla pandemia, è il momento in cui, proprio perché siamo feriti, i sensi ci permettono di vedere quali sono le domande che strutturano. Dal crudo al cotto, vi dicevo, perché il gusto è funzionato come sensore di pienezza? Perché attraverso il cibo, ma attraverso l'organizzazione ritualizzata, non solo del consumo del cibo alla tavola, ma della sua preparazione. Con Levi-Stross analizza anche i monasteri, ed è molto interessante il regime alimentare, ed è in monasteri anche della come custodivano il cibo, lo preparavano. Ecco, state vedete, tutta l'organizzazione di questi sensori di pienezza permette all'uomo di scoprire qual è la domanda. E la domanda la mette in luce bene Guy Jobin, Claude Levi-Strauss la lascia in un modo più generico, ma la domanda è di chi sono? A chi appartengo? Chi mi riconosce? Giustamente, vi dicevo, Claude Levi-Strauss dice che alla fine il pasto è questo grande gioco rituale che mi permette di capire quanto io valgo per l'altro. Pensate anche tutte le parabole evangeliche, sedersi al primo posto, all'ultimo posto, che tipo di cibo mi viene presentato, in che modo, cucinato da chi e così via. Ecco, lo stesso avviene nel momento della malattia. Ciò che conta è essere lì di fianco a quella persona e dire, qualsiasi cosa ti accada, io ci sono per te, ti riconosco. E lì ha ragione Guy Jobin, è il motore che riaccende dinamiche anche di trascendenza, che permettono poi alle varie tradizioni religiose, per noi quella cristiana, di dire che effettivamente c'è una buona notizia, c'è effettivamente una parola di salvezza in tutto questo. Ma se non si arriva a quel cuore del riconoscimento, non si riesce a gustare come Simone nel brano evangelico. La gente ci percepirebbe come degli estranei che portano giudizi, rimarrebbero nella loro morte e noi nel nostro orgoglio. Che questo convegno invece ci serva per capire come costruire comunione e permettere a tutti di tornare a gustare la vita, non semplicemente andando agli aperitivi sui navigli, ma ad esempio imparando a vivere, senza ad esempio, imparando a vivere con maggiore forza e profondità la domenica e quindi il sacramento dell'Eucaristia che ci riunisce.